ciao a tutti oggi nuovo video su un libro che ho letto e vi faccio un po una mini recensione allora questo libro l'ho comprato da tenoa a milano che è un negozio di sul giappone con vari prodotti dal alimentari vestiti libri cancelleria e c'è anche il ristorante allora questo libro si intitola il giappone delle donne dal secondo secolo a oggi di ornella civardi con illustrazioni di ayano tani e kaori yamaguchi la casa editrice forse più avanti la troviamo comunque abbastanza grosso a new new a casa editrice infatti no noi noi scusate che mi pare di torino ed è una casa editrice dove fanno tutti i libri su giappone l'ho pagato 30 e racconta un po la vita delle più famose donne giapponesi che vanno dalla di tutta la cultura arte pittura moda eccetera allora vi faccio vedere un po come all'interno è molto colorato con varie stampe in tutto sono 60 al cui non le conoscevo proprio altre sì infatti poi faccio vedere le mie preferite qua c'è l'indice in pratica ci sono regine poetesse le prime scrittrici questo è dal secondo al nono secolo e poi c'è il 19 il ventunesimo secolo allora dico quello che conosci che conosco di queste nessuna invece di queste più secoli più nuovi allora se tsuko ara che è un'attrice è morta però lo sempre senza parlare nei video di su youtube di cinema giapponese se tsuko ara poi yokono la moglie di john lennon imprettrice michiko che la moglie dell'imperatore ex imperatore sarebbe la mamma di quello che c'è adesso poi natsu okirino che una scrittrice che se volete iniziare a leggere natsu okirino leggete le quattro case lingue di tokyo bellissimo poi rumiko takashi che la mangaka di rama mezzo di lamu mezzo onikoku e basta mi pare ah no è di inu yasha poi in pratica masako che adesso è la moglie di quello che c'è adesso ballano yoshimoto che la mia scrittrice preferita e leggendo trova mariai maricondo che la donna che mette a posto nel senso che fa i corsi per ordinare e ho letto il suo libro il potere del riordino e leggendo ne trovati alcune che non conoscevo che mi sono molto piaciute nomi watanabe che l'influenza del body positive e rei karikawa che la cosplayer misteriosa infatti non lo conoscevo proprio non si fa mai vedere in foto cioè non si sa la sua il suo vero volto qual è allora che questa e vediamo queste invece non mi guata nabe comunque come vedete molto colorato con molte illustrazioni ma la riusci moto è molto piaciuto questa è la manga cadile di oscar ed è molto interessante quindi se volete comprarlo compratelo ne vale la pena e basta questo è stato un mini video book e ogni volta che leggerò un libro che mi piaciuto molto vi faccio la recensione per questo video è tutto mettete un pollicino all'insù e iscrivetevi al mio canale ciao ciao